Ecco l'edificio! Irruzione dalla porta a sinistra! State pronti! La porta a sinistra! Detonazione! Via, via, via! La porta a sinistra! 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 A tutti i segnali di chiamata, controllate i cadaveri e confermate l'eccesso di Al-Assad. Qui in negativo, signore. Qui nessun segno di Al-Assad, signore. Stanno cercando di scappare! Guardiare generale, qui Red Dog, edificio sotto controllo, nessun segno di Al-Assad, passo. Ricevuto, passo e chiudo. Contatto, limito! Pare che Al-Assad stia trasmettendo da una stazione televisiva a 500 metri a est da qui. Procederemo a piedi e cattureremo il bersaglio sul posto. Muoversi. RPC! Attenzione! Granata! Contatto! 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 Temici! Riciccio a strutturale! Rinforzi alleati in arrivo! Uno in meno! Non sopprimete i bersagli! Contatto nemico! Stato piano! Abbiamo un uomo a terra! Unciso! Bersagli in campo aperto! Nemici in campo aperto! Aprete il fuoco su quei uomini là giù! Nemici in campo aperto! Bersagli in campo aperto! R.P.G. accanto a quel muretto! Aprite il fuoco! Rinforzi alleati in arrivo! Bersagli in campo aperto! Cambio caricatore 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 Edificio bersaglio in vista Cambio caricatore 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 Cambio caricatore